Ecco il terzo San Giovanni di Cluny, come vedete camere spaziose su cinque piani Scala, giardino, c'è tutto, veramente un posto molto comodo, conveniente Guardate che bello, che vista su Roma, sulle terme Qua ci sono i bagni, che devo dire molto puliti e comodi Ci sono le docce, comodissime, per tutti E' qua Ecco, camera mia Guardate, è un po' sfatto, ovviamente Però, ragazzi, ve lo consiglio, perché è veramente economico Si spende poco 30 euro nel centro di Roma Considerate che là, vedete, c'è il Campidoglio Dopo quel Pino c'è il Campidoglio Là c'è il Colosseo, c'è via Cavour Sono andato a piedi, 600 metri ci siamo, 800 E le fermate della metro sono Vittorio Emanuele E Termini un po' più in là Santa Maria Maggiore è vicinissima Quindi, ragazzi, per qualsiasi vostro viaggio, visita, tour, weekend di piacere o di lavoro Venite qui perché risparmiate dei soldi e state bene Ciao, buon anno Grazie 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 Grazie